La Corte d'Appello di Caltanissetta ha condannato a 4 anni e 8 mesi il San Cataldese di 43 anni Williams Leone per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, assolvendolo però dall'accusa di violenza sessuale. Un dettaglio, quest'ultimo, che ha comportato una riduzione della pena, visto che in primo grado la condanna era stata di 8 anni. Secondo quanto denunciato dalla donna, l'imputato l'aveva costretta ad avere rapporti sessuali anche se lei non era consenziente, oltre ad averla picchiata in più occasioni tra maggio e luglio del 2020. Leone era anche stato arrestato per questa vicenda e ora si trova in una comunità a causa di problemi di tossicodipendenza. Il sostituto procuratore generale Antonino Patti aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado, così come l'avvocato Elisa Demma, legale di parte civile della moglie dell'imputato. Quest'ultimo dovrà comunque risarcire la donna per i maltrattamenti e le lesioni. L'avvocato difensore Calogero Montante aveva invece chiesto l'assoluzione da tutte le accuse, sostenendo che sarebbe stata la donna a pretendere rapporti continui per ristabilire l'armonia con il marito e che non c'erano nemmeno elementi a sostegno dell'accusa di maltrattamenti. Entro tre mesi verrà depositata la motivazione della sentenza, probabile un ultimo capitolo in Cassazione.